E' indagato per maltrattamenti aggravati dalla morte il 67enne romeno compagno e connazionale di Monica Godos, 53 anni trovata senza vita in un'abitazione di strada Colle Orlando, zona periferica di Campania nella parte sud di Pescara del quartiere San Donato. L'autopsia sulla donna condotta nel pomeriggio di ieri dall'anatomo patologo Cristian Dovidio nell'obitorio dell'ospedale di Pescara non ha chiarito i dubbi sulle cause della morte, dubbi emersi nel corso della prima ricognizione cadaverica che aveva evidenziato diverse echimosi sul torace e sul volto compatibili sia con una caduta che con delle percosse. I carabinieri di Pescara che indagano sulla vicenda continuano a interrogare il compagno della Godos con l'obiettivo di ricostruire quanto accaduto nelle ore precedenti il ritrovamento del cadavere. Resta da chiarire se la morte di Monica Godos sia dovuta ad un evento traumatico o ad una violenza altrui. Ci sono inoltre da chiarire i tempi della morte che potrebbe risalire a diverse ore prima rispetto alla chiamata del 118 da parte del compagno che ha lanciato l'allarme prima di essere trasportato in ospedale per un malore dovuto allo shock. Monica Godos è stata trovata dai soccorritori davanti l'uscio di casa su Pina dove l'uomo avrebbe raccontato di averla trascinata per prestarle aiuto. Al termine dell'accertamento autoptico i carabinieri dell'arma e il sostituto procuratore hanno voluto riascoltare in procura l'indagato che sarebbe sempre rimasto piuttosto sul vago. Dichiarazioni che saranno comunque valutate con attenzione al fine di capire se possano rivelare elementi utili a chiarire il giallo. La coppia viveva nella dependance di una villa in disuso e secondo quanto emerso aveva problemi con alcol e mancanza di lavoro che contribuivano ad alimentare un clima di continui litigi in una situazione di generale degrado e indigenza. Le indagini dunque proseguono con i binieri della compagnia di Pescara coordinati dal PM Anna Benigni.